Musica Bella a tutti i foli e bentornati su DarkFully Channel con un nuovo video sui MimePlex E questo oggi come vedete sono solo saletto per fare il PvP Team Deathmatch Quello che ho fatto la scorsa volta come danno 007 Se non l'avete visto vi ricordo di vederlo Comunque mancano 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo e è iniziata la prima partita Quindi ancora ragazzi io non ho potuto skillarmi le abilità perché ovviamente bisogna gioci abbastanza per poter raccogliere le gemme Però se voi giocate e avete qualche kit a consigliarmi, qualche abilità speciale scrivetelo qui sotto nei commenti E cercherò di usarla Vi ricordo sempre anche di lasciare un like E adesso vediamo dove è la squadra blu Se chiamo magari questo qua mi sembra un pochino più skillato Alla sola ci sono due con l'armatura di diamante Andiamo becchiamo questo qua a zombie da dietro Cavolo Dobbiamo stare attenti anche a queste così Fugo qua a terra perché incendiano Questo qua mi sembra uno stronzo Stavo bruciando Com'è? Dov'è? Dov'è? Cazzo dove si... What the fuck? Che cavolo di abilità ha questo? Meno dio No 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 Ma dov'è? Quanto cavolo veloce va? Non riesco a raggiungerlo e mi ha incendiato Penso che mi abbia incendiato i miei compagni di squadra Cavolo si mette davanti Allora prendiamoci la zuppa per poter rigenerare più velocemente la salute E' a fuoco Non penso possa avere 20.000 di salute Cavolo Infatti si è dovuto mangiare una zuppa Cavolo Dove cavolo sono? What the fuck? Qui c'è il mago Che probabilmente non dovrebbe essere OP nel pvp Perfetto è morto Allora allora Abbiamo vinto Easy proprio Non ho idea di quante kill abbia fatto Vediamo quante ne ho fatte 2 kill assist Nulla di che Ok ragazzoli Eccoci qui in questa seconda partita Speriamo di fare qualche kill Di non fare soltanto assist Anche se che con questa abilità Cioè con questa classe Devo stare attento ai maghi Perché se mi incendiano Sono problemi E vediamo Che cosa possiamo fare Allora Saliamo qua sopra Sulla piramide Magari Dobbiamo ammazzare il team Cioè quelli con il nome In blue Ok Qua sopra già c'è uno E quello cavolo Già ho preso quello Con la skill Vai no Dobbiamo beccarlo prima che Quanto là Ma Ma se mi squadra Ah Dobbiamo ammazzare Quello con il nome in rosso Non ci credo Ok Ok Là c'è uno Con il nome in rosso Ah Lo possiamo raggiungere Si è teletrasportato What the fuck Già noi ne abbiamo perso uno Non so come Sono tutti Sulla piramide Quello con il nome in rosso Qua c'è lo stronzo Quello che incendia Ed è La classe del mago Ovviamente che ha up Sto qua Incosciamente Mi ha incendiato Perfetto Dobbiamo ammazzare Questo qua Che è alla squadra Di diamante Così almeno Lo elimino Ah what the fuck Dove si è teletrasportato Si vabbè Se qua hanno le classi Di dio Non lo so Dove è finito Quello Vabbè Siamo rimasti Cinque Contro tre Cavolo Cerco di aiutare I miei compagni di squadra Dove Ti lo stanno inseguendo No 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 Si vabbè Uno ammazzato Scappiamo Che siamo rimasti Due contro cinque Perfetto Bruciamo Anche se Facciamo tutto No dai Vabbè Perso Ok ragazzi Eccoci qui In questa terza partita Speriamo di vincere L'altro dato Che nell'altro Sono stati abbastanza Massacrato Vediamo Iniziamo subito Noi siamo la squadra rossa Quindi Dobbiamo ammazzare La squadra blu Ricordatelo Prima che finisce Come prima Che stavo attaccando Una delle mie squadre Allora 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 Se noi proviamo A salire la sopra Forse riusciamo A beccare qualcuno Alle spalle Quindi Silamo qui Andiamo di qua Dobbiamo cercare Di salire Dove c'è quella specie Di smeraldo Perché l'unica cosa Che posso fare Con questo kit È il pvp Puro Non posso Né tirare frecce Né tirare palle Di fuoco o altro Dunque come vedete Qua sotto ci sono tutti i nemici Dove aspettare Che i miei avanzino Anzi stanno facendo Tutti la stessa Identica strada Io non è una cosa Abbastanza positiva Vediamo questo C'è uno con la spada Di diamante Qua c'è il mago Che possiamo Beccare benissimo Alle spalle Però Non c'è morto Cazzo È un problema Lì c'è uno dei blu Che è solo soletto Anzi è colpito Da due dei nostri È anche infuocato Quindi posso provare Ad ammazzarlo Sperando di non essere Seguito da nessuno No 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 Qua c'è il fuoco Non posso passarci What the fuck Perché mi ha tirato Ma che E cosa fa questo Tira blocchi Vabbè C'è uno Possiamo provarlo Ad ammazzarlo Dato che ha L'armatura di chain È abbastanza in trappola Penso Anzi spero Pazzo però all'arco Grazie per la spinta Amici È finito fuori dai muri What the fuck Ed è finito fuori dai muri Non lo so Ok no Qua sono fregato adesso io Mangiamoci tutto Quello che possiamo Tismic attack Non funziona in acqua Bene Mangiamoci tutto E scappiamo via Ecco Mi hanno fregato Dove sono quelli Della mia squadra Dove sono Dove sono Quelli della mia squadra Pazzo Sono inseguito Lo so O no No non so Sì sono inseguito Da quello blu Mangiamoci dal zuppa Non lo so Siamo fermati Quindi ci siamo fregati Allora ma io voglio sapere Ok là ci sono due Della mia squadra Giusto Io Dovei provare a salire Lassopra Per poter Fare qualcosa Grazie per avermi tirato su Però mi sono incendiato Vediamoci la boccetta Ok dobbiamo evitare Ecco che questo È salito qua sopra Questa partita Sta laggando un pochino Non so se sono io Oppure Perché Quello della mia squadra Mi tira via Cavolo Ok uno morto Adesso c'è Ludovic Questo qua mi fa abbastanza pura Anche se penso sia FK O è crashato Non ho idea Quindi posso riuscire A ammazzarlo anche da solo Perfetto E quindi siamo rimasti In tre contro uno Rimasto di Enderbox Dove sarà? Qua sopra non c'è Sono finito in acqua Ovviamente Ok l'ultima è lì sotto Ho finito le zuppe Sì Quindi non posso curarmi Non ho capito a cosa serve Però si smacatta Quindi se lo sapete Scrivemelo qui sotto Nei commenti Ok abbiamo vinto Questa partita l'abbiamo vinta Grazie a Deadbot Che mi ha salvato la partita Quindi grazie Ok ragazzi Che c'è qui in questa quarta E ultima partita Credo del giorno Cerchiamo di farla bene Abbiamo sempre contro Gli stessi Dobbiamo andare a ammazzare La squadra blu Quindi Mi si era Costanza Impallato già la partita Allora Già là sopra abbiamo Uno di quelli Che dobbiamo ammazzare Z Qualcosa Che ha lasciato oro Quindi non mi fa tanta paura Però All'armatura di diamante Non so dove stia andando What the fuck Che cavolo di abilità ha questo Si teletrasporta Vabbè è morto Possiamo dire che è morto Sta scappando Ok Sono volato via Nel frattempo Mandiamoci le zuppe Perché i blu Ci stanno attaccando Alla grande Allora Cerchiamo di aiutare I nostri un pochino di squadra Qua sotto c'è uno Che posso provare ad ammazzare Sono stato avvelenato Perfetto Ok Ammazzato Però adesso Sono senza vita Eccoli i blu Che mi inseguono No 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 Lascia tu mi stare Ecco Perché sono avvelenato Oddio Chiamo di fare un pochino Di parkour Per seminarli Se mi fermo un secondo Sono morto Stanno tirando le palle Di fuoco Di tutto Dunque siamo in un 3 contro 3 Quindi dove trovare Gli altri due Miei compagni di squadra Che sono qui Quindi Corriamo subito Da loro Cerchiamo di ammazzare Odin John John G Ok Qui c'è Uno con la sfonda maiale Ok E sta la battaglia finale Perché mi ha infuocato Nonno Dai sono morto Non ci credo Vabbè ragazzone Ho fatto un bel po' di kill Quindi la partita Non è andata Proprio male Sono felice Di come sia andata Questa partita Team Deathmatch Quindi vi ricordo sempre Lasciate un like Di commentare Se ancora non avete fatto Di iscrivervi E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao 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 ciao